Musica Così come la famiglia desiderava, si sono svolti in forma strettamente privata i funerali della piccola Tamara, la bimba di 18 mesi, morta a mercoledì scorso a Castelfranco, dimenticata in auto dalla madre. Solo i familiari e alcuni amici strettissimi a dire addio a questo piccolo angelo volato in cielo davvero troppo presto. Il sindaco di Terranova Bracciolini, Sergio Chienni, ha dichiarato il lutto cittadino per partecipare al dolore della famiglia e ha annullato feste e iniziative pubbliche. Ci uniamo ancora al dolore della famiglia, ha scritto su Facebook e nel farlo chiediamo con forza a tutti i mezzi di informazione di rispettare il pudore dovuto di fronte ad una tragedia così grande e di far sì che il dovere di Cronaca non travalichi nel soddisfacimento di una curiosità morbosa. La mamma di Tamara, infatti Ilaria Naldini, che lavora come segretaria comunale a Castelfranco e Terranova, indagata per un micidio colposo, è stata purtroppo vittima anche di un linciaggio mediatico, tanto da indurre tutta la famiglia ad oscurare i profili Facebook. Le mamme in rete hanno però trovato il modo di dimostrare la loro vicinanza alla mamma di Tamara con un hashtag poteva succedere anche a me, da incollare nel proprio profilo e dal quale qualcuno aggiunge anche un commento per cercare di alleviare un dolore che sarà purtroppo inconsolabile.